Michael Bloomberg si candida alla Casa Bianca. Se l'ex sindaco vincerà le primarie democratiche e le prossime presidenziali, la sfida sarà tra due new yorkesi. Il corrispondente Claudio Pagliara. Sarà una corsa la Casa Bianca tra miliardari? Da oggi una prospettiva possibile. Michael Bloomberg, ottavo uomo più ricco d'America, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali del 2020. Dice che gli Stati Uniti non possono permettersi altri quattro anni di presidenza spericolata e immorale, ma prima di affrontare Donald Trump, il Tycoon dovrà fare breccia nel cuore dell'elettorato democratico. Qualche giorno fa ha chiesto scusa per il sostegno dato, da sindaco di New York, ai controlli di polizia che prendevano di mira quasi sempre persone di colore e che gli sono valzi accuse di razzismo da parte degli afroamericani. Dalla sua, alla forza del denaro, ha già investito 34 milioni di dollari spot pubblicitari, più di tutti gli altri candidati democratici messi insieme. Entrato in lizza tardi però ha deciso di saltare le primarie di febbraio, che come da tradizione danno il calcio d'avvio alla corsa verso la nomination, concentrando gli sforzi nel Super Tuesday, il super martedì elettorale, il 3 marzo, quando saranno chiamati alle urne gli elettori democratici in 15 stati. La sua discesa in campo dopo le difficoltà elettorali del moderato Biden e l'ascesa dell'ala sinistra del partito, impersonata da Elizabeth Warren, che propone una super tassa ai ricchi per finanziare l'assistenza sanitaria per tutti. Grazie. 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 Grazie.